La quarta concorrente della mattina è Battuzzi Maestella, nazionalità italiana, cittadinanza italiana in Svizzera, anni 25. Eseguirà i Bach, grave e fuga dalla seconda sonata alla minore, di Mozart, concerto della maggiore KU 219, primo movimento e cadenza di Valdin. Lipzer, studio numero 18, relazioni ad agio, mosso, etnico e marcato dalla tecnica superiore del violino. Al piano Mario Battuzzi e ricordo ancora che dopo questo concorrente ci saranno 10 minuti di patto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.